buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 29 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi così per iniziare la giornata perché abbiamo un riferimento di una grande grandissima santa e santa caterina da siena eccola la vediamo santa caterina moltissime ancora persone ancora moltissime giovani e anche anziane si chiamano caterina un nome che si è propagato nei secoli perché è un punto di riferimento importante sia per l'importanza religiosa di questa santa sia per la sua azione di carattere politico ovviamente politico tra virgolette santa caterina è stata nominata patrona d'italia suora umile ma non per questo silente con i potenti soprattutto infatti ci ha lasciato più di 300 lettere che sono state scritte a papi imperatori principi popoli in lotta tra loro ebbene ottenne che il papa pensate tornasse da avignone a roma cosa che non era riuscita magari ai più più esperti consiglieri della corte papale di allora santa caterina con la sua umiltà ma con la forza della la sua fede convince il papa a tornare dalla francia in italia a roma ebbene come san francesco ottenne le stigmate e il corpo di santa caterina da siena riposa nella chiesa di santa maria sopra minerva a roma nei pressi del panteon mentre il suo capo fu portato già nel quattordicesimo secolo nella chiesa di san domenico a siena ebbene questa è santa caterina ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che il tempo dovrebbe essere buono oggi almeno su tutte le marche poi vediamo magari che nel weekend c'è in linea un peggioramento comunque al momento c'è un'alta pressione in rinforzo con tempo stabile e temperature in aumento le temperature se girano tra i 9 gradi della minima l'abbiamo ormai già oltrepassata ai 18 della massima i venti deboli localmente moderati da est e sud est sulle coste da est nord est nell'entroterra il mare è leggermente mosso anzi siamo così poco mosso il mare calmo diciamo veramente come la situazione una giornata dunque ideale una giornata primaverile che invita al turismo ormai c'è un lungo ponte oggi fino al 2 maggio allora apriamo il corriere adriatico e vediamo l'apertura c'è stato un lungo consiglio comunale l'altra sera a fano e quindi i giornali riportano un po le notizie che sono così risaltate dal dibattito che c'è stato ebbene un dibattito sull'urbanistica non è mancato anche se viene così riferito al giorno d'oggi è stato un rimando doveva essere approvata la variante la famosa variante di centinarola che prevede l'ampliamento della scuola raffaello sanzio e prevede anche l'insediamento di un supermercato ebbene una polemia una variante che ha distato delle polemiche ed è la sesta volta che viene rinviata dal consiglio comunale ma l'altra sera c'è stata una ragione la proposta infatti è stata fatta dallo stesso assessore all'urbanistica Cristian Fanesi perché proprio questa mattina a centinarola la giunta incontrerà i residenti del quartiere ci sarà una bella passeggiata una lunga passeggiata che verrà fatta da via brigata Messina così per vedere i punti più importanti che verranno trattati dal piano regolatore generale e poi alle 11 nella chiesa nella sala della chiesa ci sarà un incontro un dibattito riassuntivo della situazione ecco perché la variante di centinarola è stata è stata riviata al prossimo consiglio comunale e nell'articolo pubblicato oggi dal Corriere Adriatico abbiamo anche una presa di posizione di Stefano Marcheggiani di azione consigliere comunale ex assessore alla cultura lui stesso un professionista e un architetto infatti ebbene le considerazioni che Marcheggiani fa sul piano regolatore sono buone per quanto riguarda l'equilibrio che si è raggiunto e poi anche la diminuazione di occupazione di suolo per quanto riguarda i nuovi insediamenti però non mancano alcune considerazioni critiche come un piano che non ha grandi slanci per il futuro e forse poteva prevedere qualcosa di più caratterizzante di più così futuribile per Fano cosa che non c'è stata e ieri c'è stata però una sollevata di scudi una nuova sollevata di scudi da parte dei residenti di Carrara i quali sono intervenuti dopo il lungo silenzio delle trattative tra Terna e l'amministrazione comunale per le opere compensative che dovrebbero corredare la realizzazione dell'Adriatic Link vi ricordate l'Adriatic Link, quel grande e nuovo elettrodotto sotterraneo che dovrà collegare Carrara con una località dell'Abruzzo passando poi anche sotto il mare ebbene intanto c'è il problema che il rumore emesso dalla centrale di Carrara continua a disturbare i residenti ebbene Terna si è impegnata a tutelare a proteggere la centrale con dei pannelli fonoassorbenti però ancora l'intervento non è ultimato e una precisazione fatta dalla società dice che lo sarà entro maggio comunque i residenti insistono vogliono sapere quali saranno le opere compensative che verranno realizzate nella frazione per superire al disagio di così essere a contatto con questa grande struttura che certo non determina un impatto ambientale poco considerevole insomma una centrale elettrica e poi con questo elettrodotto insomma determina un impatto sul territorio di notevole rilevanza e dal consiglio comunale sono emerse anche situazioni critiche per quanto riguarda la viabilità di Bellocchi a Bellocchi via impraticabili e pericolose per chi le percorre c'è stata una dura protesta del consigliere comunale della Lega Luca Serfilippi a cui ha risposto l'assessora alla viabilità Barbara Brunori Brunori rassicura per quanto riguarda la situazione Bellocchi c'è anche la zona industriale la cui viabilità è veramente ridotta in situazioni impietose per il continuo passaggio di automezzi pesanti soprattutto ebbene l'assessora Brunori rassicura su Via Meda come su parte di Via Inaudi e sul parcheggio al servizio del Brico vicino al centro commerciale al centro Metauro inglobati nella prossima campagna di asfaltature queste sono già in lista e quindi tra poco verranno asfaltate e poi ci sono ancora delle prospettive più incerte per quanto riguarda Via Filippini dovremo operare su più di un chilometro di strada della larghezza di 12 metri in tutto 13.000 metri quadri e l'utilizzo massiccio da parte di mezzi pesanti impone un intervento radicale su un fondo fortemente compromesso a premesso Brunori insomma Brunori ha detto quali sono gli interventi in atto certo che non si può l'amministrazione comunale non ha i fondi per intervenire in tutte le parti e subito deve fare delle scelte e ovviamente qualcuno rimane fuori e qualcuno c'è dentro e questa è un po' la situazione di Bellocchi vediamo ora alcune iniziative oggi verranno inaugurati i nuovi arredi a Piazza Capuana a Fano 2 ci saranno anche delle belle iniziative organizzate dagli scout della Gesci verranno fatti giochi per i bambini e verrà regalata loro anche una merenda quindi nel pomeriggio di oggi invece una bella iniziativa organizzata dagli studenti del liceo artistico Apolloni i quali hanno interpretato il contenuto di un libro si tratta degli italiani ad Auschwitz di Laura Fontana Laura Fontana è stata presente recentemente a Fano ebbene loro hanno interpretato queste suggestioni emesse dal libro con dei disegni che sono ora in mostra alla Memo la Shoah interpretata eccolo qua la Shoah interpretata dai ragazzi della Apolloni e qui vediamo appunto il preside che osserva uno di queste opere esposte giriamo la pagina siamo a Fossombrone in diversi consigli comunali si è approvato il bilancio consuntivo in questo caso tributi risposte dagli esperti i cittadini possono prenotarsi ed è l'assessore Mezzanotti che illustra i vantaggi dell'associazione intercomunale questione tributi tramite lo sportello telematico LinkMate ora i cittadini potranno avere tutte le indicazioni utili per fissare l'appuntamento visto che per due giorni alla settimana a Fossombrone sono a disposizione gli esperti che possono chiarire qualsiasi dubbio e fornire qualsiasi informazione un servizio importante questo per evitare poi che si facciano degli errori oppure si incorra in diverse problematiche che poi insomma vanno a finire nel pagare delle ammende dicevo dei bilanci comunali e in questo caso in quest'altra pagina siamo a San Costanzo San Costanzo ha segnalato un avanzo di bilancio di un milione di euro quindi il bilancio comunale è sano evidenzia il titolo il vice sindaco Ciani interviene sul rendiconto del 2022 per gli investimenti ci sono 163 mila euro ebbene l'avanzo di tutto è 969 mila però quello spendibile per gli investimenti è di 163 mila euro sono state approvate durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale le tariffe della Tari della tassa sui rifiuti con scadenze a giugno agosto e a ottobre 3 mila euro sono stati spesi per lo smaltimento di amianto 15 mila saranno destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche un investimento importante questo per garantire la viabilità e la movimentazione a tutti quindi è importante anche per i disabili e poi abbiamo 10 mila euro a sostegno della morosità incolpevole sono soldi che provengono dalla regione e 2 mila 400 euro da destinare a soggetti che promuovono le attività dei centri astivi anche questo è importante perché permette alle famiglie i cui genitori entrambi lavorano di poter continuare la loro attività serenamente d'estate quando poi l'anno scolastico è terminato e quindi le scuole sono chiuse è in difficoltà a Mondavio la caccia al cigniale uno dei più belli diciamo così spettacoli di rievocazioni medievali che si svolge nel nostro territorio la suggestione veramente creata a Mondavio è molto molto grande già il paesaggio già il centro storico di per sé ha una coreografia di carattere medievale se poi ci si mettono i costumi ci si mettono le usanze ci si mette il banchetto rinascimentale ci si mette l'incendio della rocca e poi tutte le ricostruzioni che fa la Proloco veramente lo spettacolo è unico è entusiasmante ebbene questo spettacolo però è in difficoltà mancano mancano i soldi e quindi la Proloco cosa fa lancia una raccolta fondi on online appunto per la caccia al cinghiale avviata dalla Proloco per fra fronte alla spesa totale di 110 mila euro ebbene comunque come vada come vada speriamo che per il 13 14 e 15 agosto questo spettacolo si rinnovi a Mondavio e se si trovano i soldi e lo spettacolo ci sarà vi faccio una raccomandazione andateci almeno una volta nella vostra vita perché magari anche più perché veramente vale la pena passiamo a Senigallia passiamo a Senigallia e vediamo la cronaca assalto in villa cassaforte smurata i ladri vanno in fuga con 4 mila euro il furto a segno a scapezzano in casa non c'era nessuno la banda è andata a colpo sicuro ebbene hanno avuto tutto il tempo di smurare una cassaforte in pieno giorno in una villa di scapezzano dentro c'erano 4 mila euro in contanti il colpo è avvenuto giovedì pomeriggio in via dei Capuccini si tratta del bottino più alto che è stato portato via in questi ultimi tempi nel comprensorio di Senigallia purtroppo altri tentativi sono stati compiuti ma erano stati falliti questo invece è andato veramente a segno ed è stato un colpo veramente importante ovviamente i carabinieri sono sulle tracce sulle piste dei ladri e si cerca di identificarli le indagini sono in corso vediamo anche un articolo che riguarda Fabriano oratorio della carità musei e strade il comune trova un tesoro di 2 milioni anche qui si tratta di una variazione di bilancio che consente di mettere in programma altri interventi anche nel sociale e guardate che bella fotografia qui per l'oratorio della carità una fotografia che mostra la bellezza del nostro territorio vediamo anche una notizia che riguarda Pesaro dove si parla della raccolta differenziata a Pesaro in centro storico è nato un esperimento per quanto riguarda la istituzione di contenitori smart fruibili con delle tessere ebbene differenziata in centro storico correttivi ma anche sanzioni ai danni dei furbetti molti servizi acquista nuovi contenitori smart ma meno impattanti insomma si devono vedere un po' di meno dal quartiere vengono richieste di decoro ebbene qualcosa c'è da migliorare soprattutto per quanto riguarda questo esperimento in particolare bisogna intervenire contro gli abbandoni di rifiuti ingombranti in centro in sostanza il comune chiede più controlli e dove è necessario anche sanzioni proseguirà comunque la sperimentazione in atto per tutta l'estate e verranno apportati alcuni correttivi poi volevo segnalarvi quello che si sta orchestrando in merito ai paletti del porto quei paletti che sistemati su volontà dell'autorità portuale hanno destato veramente tante polemiche comunque una risoluzione dopo un incontro tra amministrazione comunale e autorità portuale c'è stata via ai paletti nuove protezioni piccolo dragaggio per il canale l'autorità portuale assicura circa 2 milioni di euro per migliorare l'agibilità dello scalo quasi 7 milioni di avanzo di bilancio nel comune di Pesaro e ora è stata definita la ripartizione di questo tesoretto ovviamente è l'utile molto molto più alto si parla di tanti tanti soldi ma quegli spendibili sono 7 milioni insomma è una cifra molto ridimensionata come verranno spesi destineremo 800 mila euro ai servizi educativi hanno detto gli amministratori 500 mila euro alla cultura promozione turistica e accoglienza 100 mila al sostegno temporaneo al reddito andando a incidere ancora sulla Tari e 25 mila a sostegno di progetti sulla violenza di genere verranno investiti poi 4 milioni di euro di cui 2,2 per gli asfalti e la manutenzione delle strade cifra che si somma già al milione messo all'inizio di quest'anno poi ci sono anche altri interventi vedi la ristrutturazione di Palazzo Mamiani che ospiterà la Casa delle Tecnologie 200 mila euro per la scuola Lighieri 100 mila per il progetto di Anna Frank 200 mila per i quartieri e 370 per il teatro Rossini questa è un po' a grandi linee la ripartizione dei soldi ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino dove si apre con una notizia di politica ve la faccio subito vedere e c'è la scelta politica del sindaco Massimo Seri Massimo Seri è ormai giunto quasi al termine del suo decennale manca meno quasi un anno possiamo dire perché poi si prevede che il prossimo maggio nel maggio del 2024 ci siano le nuove elezioni Massimo Seri non può più presentarsi questa volta e quindi sta cercando di vedere qual è la sua posizione anzi l'ha già scelta la sua posizione è quella di passare ad azione ovvero al partito di calenda Seri già in azione in titola il giornale passa con calenda il segretario regionale di questo partito Tommaso Fagioli dice Seri si è tesserato online e la conferma è giunta da Roma ebbene giovedì sarà ci sarà un incontro tra Massimo Seri e forse e forse Calenda no probabilmente ah no con Mara Carfagna che sarà in Ancona la parlamentare Mara Carfagna che sarà in Ancona l'incontro con Seri servirà a capire le sue intenzioni se il ruolo del sindaco sarà quello di un semplice iscritto oppure vorrà veramente assumere un ruolo importante all'interno di questo partito e questa è la scelta appunto poi viene argomentata ovviamente dal giornale del nostro primo cittadino giriamo le pagine troviamo invece una dichiarazione per quanto riguarda l'ospedale Santa Croce ne parla Renato Claudio Minardi Santa Croce va verso il declassamento Renato Minardi è stato uno dei più convinti sostenitori del progetto sulla sanità che era stato avviato dall'ex presidente della regione Ceriscioli in passato il Santa Croce e il San Salvatore sono stati oggetto di integrazione all'interno dell'azienda ospedaliera Marche Nord con l'obiettivo di realizzare un ospedale di livello di secondo livello da 600 posti evidenzia Minardi cancellato dal centrodestra regionale questo schema dovrebbero rimanere solo tre ospedali di primo livello Pesaro Fano e Urbino primo livello è inferiore rispetto al secondo ma temo dice Minardi che ci stiamo raccontando cose non vere la nostra provincia non ha gli abitanti sufficienti per tre ospedali di primo livello con tutte le specialistiche insomma questo è la critica che evidenzia e poi ve ne sono anche altre per quanto riguarda la sanità parliamo di turismo legato allo sport turismo sportivo ossigeno per albergatori e locali dopo il meteo incerto dei giorni scorsi ora gli addetti ai lavori puntano tutto sugli eventi sportivi eventi sportivi che attirando nel nostro territorio moltissimi atleti con i loro accompagnatori con i loro parenti incrementano le presenze turistiche e la regina di questi eventi sportivi è senz'altro la Colle Marathon in programma per il 7 maggio prossimo comunque al momento sembra che languino un pochino le iscrizioni ovvero sono un pochino meno rispetto al passato però sono numerose perché hanno superato le mille unità e gli anni scorsi erano un pochino di più e quindi si cerca di superare questo gap a Mondolfo a Mondolfo Mondolfo ecologica differenziata arriva all'80% la raccolta differenziata rende merito al senso sociale ed etico dei cittadini di Mondolfo Barbieri e l'assessore Tiritiello vanno ringraziate le famiglie e le attività che hanno seguito con attenzione e responsabilità le nuove procedure sono stati fatti dei controlli ovviamente ispezioni a campione sulle modalità con cui sono separati i diversi materiali per continuare su questo passo quindi veramente la raccolta differenziata a Mondolfo è efficiente ha raggiunto una buona percentuale appunto di raccolta vediamo la pagina di Urbino una dichiarazione del sindaco Maurizio Gambini niente caccia all'oasi della Badia il sindaco ha parlato con l'assessore regionale abbiamo avuto tutte le rassicurazioni l'oasi della Badia non tornerà terreno di caccia a rassicurare tutti a riguardo di una possibilità tornata di nuovo attuale negli ultimi giorni dopo la retirazione della richiesta alla regione da parte dell'ambito territoriale di caccia è il sindaco appunto Maurizio Gambini durante il consiglio comunale di giovedì Gambini ha risposto a una interrogazione con cui Partito Democratico e Viva Urbino chiedevano la sua posizione e quella del consigliere di Liberi per cambiare Luca Guidi membro del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia comunque questa possibilità questa opportunità viene completamente esclusa e ad Urbino poi invece abbiamo una bella iniziativa che si svolge nelle scuole controlli sull'udito per gli scolari urbinati al via una campagna di prevenzione promossa da comune e azienda sanitaria territoriale saranno esaminati i bambini delle prime classi della Volponi e Pascoli è bene intervenire non solo al momento della nascita ma anche nel momento della scolarizzazione è importante per individuare coloro che hanno problemi di udito e magari ancora non viene colto non risalta con tutta la sua evidenza siamo in conclusione voglio segnalarvi alcune notizie di sport miracolo la vis si salva si salva perché Limolese è stata penalizzata di altri 4 punti e scivola a meno 9 quindi la vis farà un nuovo campionato di serie C il prossimo anno Fano invece chissà può anche sperare Fano vuole aggettare il cuore oltre l'ostacolo Granata quarti in classifica il Chieti è salvo il prossimo avversario domani al Mancini si tenterà l'impossibile per migliorare la posizione di partenza ai playoff e con questa notizia chiudiamo il giornale e vi do appuntamento terminiamo la nostra rassegna stampa e vi do appuntamento a quando ebbene ci saranno alcuni giorni di pausa noi ci rivedremo mercoledì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto